Allora eccoci qua, buongiorno, giovedì 9 settembre, stavo salutando gli amici su Facebook, gli amici che ci seguono in diretta con la nostra diretta del mattino delle 7, allora buongiorno a tutti, eccoci qua, 9 settembre 2021, canale 17 su tutta la regione Marche, digitale terrestre, alle 7 del mattino c'è l'appuntamento dell'informazione, quella del commento alla stampa del giorno, abbiamo anche oggi selezionato un po' di pagine per voi, per vedere un po', soprattutto in provincia di Piesa Urbino, questo lo dico, insomma, non riusciamo a seguire tutte le province della regione, altrimenti la rassegna sarebbe stata, sarebbe molto più lunga, ma comunque andiamo a vedere adesso il santo, il tempo e poi i giornali. Allora il santo di oggi è San Piercalaver, mentre il sole è sorto alle 6.40, tramonterà alle 19.30, adesso andiamo a vedere il metodo. Dal sito della protezione civile delle Marche, allora per quanto riguarda la giornata di oggi, cielo sereno, poco nuvoloso, non si escludono piogge nei settori montani della regione, però quelle, diciamo, sui Sibillini, nella parte sud della regione Marche, poi domani cielo sereno, poco nuvoloso in montagna, mentre tutto sole in spiaggia sulla costa, sabato 11 invece, il fine settimana, cielo sereno, poco nuvoloso, ma ancora qualche possibilità di pioggia nelle montagne del sud delle Marche, il tempo sarà buono comunque per tutto il resto, insomma, del fine settimana, sabato e domenica il tempo è bello, anche se fa un po' freschino a quest'ora del mattino, come probabilmente ci può confermare Enzo Monachesi dalla sua spiaggia di Velluto a Senigallia, il piccolo Lido. Buongiorno Enzo. Buongiorno, buongiorno a voi, confermo. Eh, c'è il maglioncino, eh, c'hai il gilettino. Eh sì, sì, sì. Quanti sono? È fresco, è fresco. Quanti sono i gradi, scusami? È circa 16. Ebbè, insomma, però poi sale, dai. Appena sale il sole si riscalda e si sta benissimo anche in spiaggia. Allora Enzo, siamo in chiusura di stagione, anche noi con i nostri collegamenti che ci hanno tenuto compagnia per tutta questa stagione, tempo di bilanci Senigallia, possiamo dire che la stagione è andata tutto sommato bene, che dici? Ma sì, tutto sommato, pensando che siamo sempre in periodo Covid, pandemia, e quindi diciamo che già lavorare è un ottimo risultato. La stagione è andata come, diciamo, prevedevamo, con una sorpresa, che è stata quella del giugno, mese di giugno, che è stato molto, molto, diciamo, soft dal punto di vista delle presenze, e la valutazione che facciamo adesso, diciamo che la causa è soprattutto il fatto che c'era la corsa al vaccino. Quindi quasi tutti avevano in famiglia un componente che attendeva il vaccino, aveva una prenotazione, e quindi diciamo che nessuno si muoveva con tranquillità e serenità. Quindi hanno aspettato tutto il vaccino, e poi luglio piano piano si è riempito, con agosto, come dico sempre io, pieno dal 1960. Quindi agosto non fa testo, diciamo, per fare il bilancio, insomma, va bene di sicuro, insomma. Allora Enzo, intanto grazie, oggi è giovedì, quindi ci vediamo ancora domani, dopo domani, ti auguro buon lavoro, a te e tutti i tuoi colleghi, buona giornata al mare. Grazie a voi, buona giornata a tutti. E adesso noi invece andiamo a vedere i quotidiani, i giornali di oggi, abbiamo come sempre il Carlino e il Corriere Adriatico. Allora, cominciamo dal resto del Carlino, questa è la pagina di Pesero, con la fotonotizia che riguarda lo schianto mortale che c'è stato ieri a Fano, un centauro di 57 anni perde la vita contro un'auto, la vittima è Alessandro Minardi, 57 anni, e questa è la scena dell'incidente. Il titolo, prof vaccinati ma anti Green Pass, sono alcuni docenti di Urbino che hanno firmato la petizione Barbero, ognuno dicono deve essere libero, poi parla la microbiologa, la quale dice avere anticorpi alti non vuol dire essere protetti dal virus. E poi carta verde anche per i dipendenti, divisi baristi e ristoratori, e ancora un pesarese a Sanremo, ora punta alla finalissima, Gianluca e la sua chitarra, e domani a Pesero la fiera di San Nicola si parte, i divieti e i permessi, e naturalmente le proteste. E poi il caso del 21enne suicida dopo l'incidente, Nicolas, gli amici disperati, insieme ci divertivamo tanto, perché questa tragedia, il caso del 21enne suicida dopo l'incidente. Poi di Taglio Basso invece, club nautico, porte mondiali in città, Petrovic alla VL, ora solo allenamenti. Questi sono i titoli scelti per la prima pagina del resto del Carlino. Mentre andiamo a vedere il Corriere Adriatico. Allora anche qui sulla prima pagina di Pesero c'è la foto dell'incidente ieri al Codma di Rosciano Affano. La vittima aveva 57 anni, schianto al Codma, muore in scooter. Lo scooter è quello che vedete nella foto. Poi bus sicuri, steward più mezzi, trasporto scolastico, tavoli tecnici per prepararsi all'avvio in presenza, parliamo ovviamente di scuola, il piano di Adriabus, corse da rafforzare capienza, che cosa rimane e che cosa si elimina rispetto all'anno scorso. E poi i numeri shock dell'altra sanità dimenticata nell'era Covid. Gli effetti sanitari della pandemia, diretti e indiretti, si potranno vedere in maniera più evidente nei prossimi anni, ma l'impatto del Covid sul sistema sanitario regionale nel 2020 è già nero su bianco e dunque i numeri affiorati mostrano in tutta la sua gravità l'altro volto di questa emergenza senza fine. Il primo numero è in un anno i ricoveri sono diminuiti del 21%. Cioè la pandemia, come abbiamo già detto più volte, ha bloccato tutto il resto della sanità, comprese le visite e tutto il resto. Miocardite, da Mondolfo, il Corriere Adriatico, a differenza del resto del Callino, ha deciso di pubblicare questa storia in prima pagina, con la storia di un 38enne che è stato ricoverato dopo aver fatto il vaccino, è un DJ, lo vedremo tra poco, una storia che arriva da Mondolfo. Poi da Pesero perseguitava la ex e la figlia, ha processo un imprenditore di 78 anni, e a Sant'Angelo in Vadola, Dio a Nicola, il sindaco dice, siamo tutti colpevoli. Paolini, Paolini che ha scalzato Gambini, è il nuovo capo dei sindaci, nominato presidente della conferenza d'area vasta, vice, sarà il primo cittadino di San Lorenzo in campo, e poi da Pesero fototrappole, prime multe per i furbetti dei rifiuti. Ripartiamo dalla cronaca, a pagina 13 del Carlino di Fano, schianto tra auto e scooter, muore a 57 anni. L'impatto è avvenuto in via Campanella a Rosciano, la vittima è Alessandro Minardi, 57 anni, meccanico, la BBM di Colli al Metauro. Si è schiantato contro la vettura che si è trovato davanti all'improvviso, un Audi condotto da un giovane di 26 anni, mentre a Rosciano, poco prima delle 14 di ieri, percorreva via Campanella in direzione Monte, costeggiando il Codma, in sella alla sua moto, una Yamaha 500. L'incidente è avvenuto all'altezza dello svincolo per la strada comunale del cimitero di Rosciano, un impatto fatale per Alessandro Minardi, 57 anni, meccanico molto conosciuto a Fano e padre di famiglia. Sulla dinamica ovviamente ci sta lavorando l'ufficio della Polizia Locale di Fano, ma come scrive il giornale, come racconta bene Marco Derrico, in questo articolo la ricostruzione è più o meno questa, cioè l'Audi, stando ad una prima ricostruzione appunto, formulata dalla Polizia Locale, viaggiava in direzione mare e avrebbe svoltato a sinistra dopo lo spartitraffico, invece di raggiungere la rotatoria in fondo alla strada, dove avrebbe dovuto invertire il senso di marcia in modo corretto. Forse è stata questa manovra inaspettata a tradire Minardi che non è riuscito ad evitare il devastante impatto. Di questo parla anche il Corriere Adriatico con il resoconto di Osvaldo Scatassi, auto contro scooter a Rosciano, muore un meccanico di 57 anni, deceduto sul colpo, Alessandro Minardi annulla, è servito l'elisoccorso, i residenti parlano di una tragedia annunciata. Vedete l'auto, quest'Audi, che voleva fare questa inversione, questa inversione qua, quando in realtà correttamente sarebbe dovuto proseguire verso la rotatoria in fondo. Questo non ha fatto il conducente che adesso questo 26enne di Milano, ma che era qui a Fano per lavoro, avrà la vita segnata per questa imprudenza che spesso facciamo senza pensarci, poi le conseguenze sono queste e sono conseguenze che ci portiamo dietro tutta la vita. Adesso invece l'altra pagina del giornale Atti persecutori, siamo sulla pagina della Valmetauro del Corriere, 78enne a giudizio, l'imprenditore e gestore di locali notturni accusato di minacce, molestie nei confronti della ex e della figlia, le due donne costrette a cambiare le abitudini di vita, l'avvocatessa Giampaoli si costituirà parte civile. Andiamo a vedere adesso invece la pagina di Urbino per un'altra tragedia, quella che ha scosso la comunità di Sant'Angelo in Vado. Sant'Angelo che adesso si ferma per Nicolaus. Il sindaco dice siamo tutti colpevoli. Oggi il funerale è ufficiato da Don Tonti. Il procuratore Boni dice si è sparato dopo essersi seduto sul letto. Dunque la tragica morte del 21enne Nicolaus Matteucci ha lasciato senza parole con un terribile sgomento ben tre paesi. Il primo Sant'Angelo in Vado dove spesso Nicolaus era solito andare dai nonni a Cal Capretto, zona selvanera. Stava da solo in completa indipendenza, in un casolare ristrutturato. Era conosciuto come il figlio del DJ Dorianin, morto a 31 anni a causa di un male incurabile quando Nicolaus era ancora piccolo. E poi c'è un altro paese che lo piange, Pian di Meleto invece, dove trascorreva la maggior parte del tempo. E poi Lunano dove Nicolaus lavorava con capacità e responsabilità alla Green Power System Gruppi Elettrogeni. Questa è la notizia che troverete sul Corriere Ateo di oggi. Vi ricordo soltanto che il funerale di questo ragazzo si terrà appunto nella giornata di oggi, nel pomeriggio, alle 15.30 a Sant'Angelo in Vado. E appunto, come già detto, verrà ufficiata da Don Davide Tonti e quindi ci sarà tutto il paese, gli amici e quant'altro. Mentre a Macerata c'è quell'altra notizia sulla quale si è parlato anche a livello nazionale questa famiglia abbandonata, possiamo dire così, forse, nel senso che era stata dimenticata da tutti. Tre persone, tutte e tre trovate morte, erano morte da diversi mesi, c'erano ancora i riscaldamenti accesi in casa quando sono entrati i soccorritori con le maschere perché l'aria era irrespirabile, sono entrati dentro e hanno visto purtroppo questi corpi ormai in avanzato stato di decomposizione. Non ci sono al momento spiegazioni, resta tutto quanto avvolto nel giallo, anche perché l'esame autoptico ha escluso segni di violenza. Quindi, nessun segno di violenza, questo è il titolo del Corriere di oggi, si sono svolti ieri gli accertamenti medico-legali sui resti della famiglia Canullo, per chiudere il cerchio adesso bisognerà attendere i risultati degli esami tossicologici. Dunque, ricordiamo che queste tre persone che erano morte, sono padre, madre e figlio, Eros e Alessandro Canullo, cioè lui, Eros, 80 anni, il figlio 54 e poi Angela Moretti, 77 anni. Il figlio di 54 anni, lo ricorderete, era invalido dopo un incidente che gli è capitato purtroppo durante gli anni dell'università. C'è un processo invece, qui andiamo a Vallefoglia, un processo che riguarda una soldatessa ferita, un incidente che avvenne nel 2018 nel poligono in Carpegna e che costò a Vanessa Malerbi lesioni personali gravissime all'occhio, se non ricordo male. Oggi in tribunale il giudice ascolterà anche un consulente tecnico per costruire l'esatta dinamica. E dunque c'è questo processo che vede appunto Vanessa Malerbi, trentenne all'epoca del grave episodio, caporal maggiore, ferita al poligono di Carpegna, il 12 giugno del 2018 dal colpo di mortaio caduto fuori traiettoria che le procurò lesioni gravissime tra cui traumi in faccia, alla spalla destra, la carotide, fratture multiple nel viso, contusioni polmonarie e ferite su tutto il corpo provocate dalle schegge. Andiamo adesso invece sull'altra pagina, quella del Corriere Adriatico di Fano, la città devastata dai baby vandali, i cittadini siano vigili di quartiere, e oggi in giunta la proposta dell'assessore Brunori, assumeranno un ruolo istituzionale ma senza divisa. Questa è l'iniziativa che ha pensato il Comune di Fano. Poi si parla invece sulla pagina 14 del resto del Corriere di oggi di un elettrodotto, un elettrodotto che ci si domanda adesso dove passerà dal mare, sapete, passerà sotto terra, nell'acqua, sotto l'acqua, però dovrà poi entrare e fare un bel po' di strada, almeno 15 chilometri, verso l'entroterra. Allora, in questo servizio di Anna Marchetti sul giornale di questa mattina, si parla di questo elettrodotto che si chiama Adriate Klink, sono percorsi possibili lungo il fiume, lungo la strada, oppure una soluzione intermedia. Intanto, tra le varie ipotesi, è esclusa la possibilità che questo elettrodotto che porterà energia possa costeggiare la Fano Urbino. Quindi questo pare che sia escluso. Intanto, ovviamente, in molti sono d'accordo, anche Baldarelli della CNA dice che bisogna potenziare la rete e l'intervento a questo punto è assolutamente necessario. Per quanto riguarda però il tracciato di questo elettrodotto, sono 15 chilometri da percorrere per arrivare alla stazione di conversione, che sarà grande come un campo di calcio per la quale c'è anche un'ipotesi, anche se meno accreditate, in un'area agricola a Cartoceto. Tre sarebbero le ipotesi prese in considerazione e quelle che abbiamo visto, cioè passare lungo il fiume oppure lungo la strada oppure un tracciato intermedio. Sulla risse, invece, che c'è stata alla discoteca, fuori anzi, dalla discoteca Miu di Marotta, la notizia di oggi è che resta in carcere uno dei cinque arrestati. Si tratta di un 25enne albanese che si era difeso dicendo che voleva, in qualche modo, aiutare e difendere un amico. E adesso, invece, andiamo sulla pagina del Corriere, no, del resto del Carlino, per parlarvi, e qui apriamo la pagina del Covid, la pagina della pandemia, per vedere un po' quali sono le notizie di oggi. La notizia di oggi è questa. Miocardite dopo la dose. Asur, evento rarissimo. L'accusa di Alessandro Baldini, che è un DJ di Mondolfo, che racconta al telefono dal suo letto d'ospedale, ora sto meglio, ma denuncerò. I medici parlano di casi possibili, ma il rapporto rischi-benefici è a vantaggio del siero. Allora, Sandro Franceschetti, questa mattina, sul suo quotidiano, sul giornale, esce con questa intervista e questo DJ racconta che cosa è successo. Tutto è iniziato sabato scorso, alle 8.30, quando ha fatto la seconda dose del vaccino Moderna. verso le 20, mentre ero al lavoro in una festa di matrimonio, fa il DJ, quindi stava lavorando, ho iniziato ad accusare brividi e malessere. Poi, misurando la febbre, ho visto che avevo 38,5. Mi sono preso la tachipirina, l'indomani, essendo comunque, pur non essendo in forma, sono andato a lavorare in un'altra cerimonia, però la sera, dice lui, ero uno straccio. La notte è stato un calvario. Alle 3 di notte mi sono svegliato con un forte dolore al petto che si acuiva quando mandavo dentro l'aria, quindi ispiravo. Lui di mattina ha chiamato il medico e gli ha detto il dottore che potevano essere sintomi di una miocardite legata al vaccino e che quindi doveva andare subito al pronto soccorso. Ovviamente lui è andato al pronto soccorso, gli hanno fatto l'ecografia, l'attacca e gli hanno diagnosticato una miocardite. Ovviamente questo è stato segnalato all'AIFA, quindi è un evento da vaccino che è stato segnalato all'AIFA e uno studio su, insomma, poi chiaramente Franceschetti, il collega del Carlino, ha sentito in merito a questo legame miocardite vaccino Augusto Liverani, responsabile delle vaccinazioni del Dipartimento di Prevenzione dell'Area Vasta 1, che ha detto che ha detto che effettivamente la miocardite e la pericardite possono verificarsi in casi molto rari a seguito della vaccinazione con i vaccini Moderna, principalmente entro 14 giorni dalla somministrazione, più frequenti dopo la seconda dose e nei giovani adulti di sesso maschile. Il Corriere Adriatico, stessa notizia, stessa notizia sul Corriere Interno. Allora, il titolo è seconda dose, poi il ricovero per miocardite, ditemi perché mi è accaduto tutto questo. Alessandro Baldini, noto DJ, da lunedì si trova all'ospedale, sabato si era vaccinato con Moderna. L'articolo porta la firma di Jacopo Zuccheri. Andiamo a vedere velocemente, visto che siamo nell'ambito della discussione, del commento sulla pandemia e quant'altro, il titolo della verità. Di corsa verso la terza dose, titola il giornale. l'Italia fa sempre da apripista. Perché? Di corsa verso la terza dose, senza sapere né a chi né a come. Proteggere i fragili è sacrosanto, ma l'EMA non si è ancora pronunciata sul richiamo. È giusto trattare tutti gli immunodepressi allo stesso modo? Come si incastra la nuova iniezione con il pass? Con che vaccini si fa? Insomma, tante, tante sono le domande che si fa il giornale. Invece il titolo del manifesto, il manifesto andrebbe acquistato solo per i titoli che sono sempre straordinari e molto efficaci, il titolo del manifesto è Pass falso. L'offensiva di Salvini costringe Draghi a rinviare l'estensione del Green Pass a tutti i lavoratori. Oggi in Consiglio dei Ministri solo un mini provvedimento. La sinistra della maggioranza furiosa, Letta, dice la Lega, ha superato il limite. Dunque, questo Super Green Pass che sarebbe dovuto nascere oggi in realtà non sarà un Super Green Pass. Tutto questo grazie alla Lega che dopo un momento di sbandamento ha deciso di rimettersi in riga. Il titolo del resto del Carlino Green Pass anche per mense e pulizie Salvini blocca l'estensione totale. La misura avverrà solo per chi lavora nelle scuole. Slitta Lobby per dipendenti pubblici e privati. Resta la tensione nella maggioranza. La Lega minaccia di astenersi ma voterà la conversione del decreto. Ora, da notare che i professionisti come avvocati o commercialisti al momento non sono tra le categorie per cui si valuta l'obbligo a differenza dei magistrati che rientrerebbero invece nel settore della pubblica amministrazione. Il problema invece è che il Premier non vuole nemmeno cedere sull'altra richiesta dei sindacati di Confindustria avvallata sul fronte politico dalla Lega. Qual è la richiesta? Quella del tampone gratuito troppo caro e troppo cedevole con i Novax. Questa invece è la pagina 4 del resto del carino di oggi. Allora, il Cardino oggi nell'edizione di Pesero intervista e lo fa Nicola Smasetti intervista alcuni professori universitari che hanno firmato quel famoso documento addirittura è arrivato a 600 quell'appello in tutta Italia il manifesto di Barbero. Allora, sono docenti di Urbino uno di loro è Salvatore Ritrovato che parla di ricatto non potete dire siete liberi ma poi impedisci le attività. Allora, Salvatore Ritrovato ha fatto il vaccino è un professore universitario che ha fatto il vaccino. Lui dice ho fatto il vaccino come scelta libera ma mi sembra molto grave limitare coloro che non vogliono farlo per questo la mia firma è un atto di solidarietà verso di loro a dirlo è Salvatore Ritrovato professore associato di letteratura italiana e contemporanea all'università di Urbino. Capite perché ieri dicevo che oggi riferendomi a ieri è una giornata importante una giornata bella perché l'università si è risvegliata i professori gente che insomma sa quello che fa sa quello che dice si è si è espressa in questo modo e con parole che non fanno una piega non puoi contraddire parole di democrazia parole meravigliose come queste lui dice io ho fatto il vaccino ho fatto il vaccino come scelta libera ma mi sembra molto grave limitare coloro che non vogliono farlo per questo la mia firma è un atto di solidarietà verso di loro e poi ancora farsi il vaccino è libera scelta perciò dobbiamo rispettarla tecnicamente invece questo cioè il green pass è un ricatto conosco tante persone dice ancora il docente universitario conosco tante persone che non si sono vaccinate e non sono fanatiche ma colte e informate vedete torniamo a quello che diceva Mazzucco l'altro giorno qui nel servizio i novax non è vero che sono tutti fuori di testa c'è sempre quello che ovviamente ma questo c'è dappertutto l'estremista il talebano chiamatelo come mi pare c'è ovunque ma la maggior parte di queste 12 15 milioni di persone di italiani che non vogliono vaccinarsi almeno al momento non vogliono vaccinarsi sono tutte persone che si informano sono persone colte che non non mettono la spalla lì a favore delle siringa soltanto perché così non stiamo tanto a discutere ci dobbiamo fidare della scienza e amen oppure perché deve andare in vacanza o deve avere il green pass a tutti i costi perché se no non si va a nessuna parte ora tanti ragazzi e ragazze che ho sentito hanno problemi con il green pass qui in realtà è un altro professore ma non lo farci docente di sociologia della comunicazione sempre all'università di urbino che intervistato sempre da da masetti risponde tanti ragazzi e ragazze che ho sentito hanno problemi con il green pass non ritengo giusto che si debba criminalizzare chi è dubbioso sulla vaccinazione l'università su questo dovrebbe mantenere un aspetto critico tra le parti vedete è come la scienza la scienza va avanti per dibattiti poi anche scontri ma l'importante è che ci siano si discuta invece qui la scienza sembra ormai un domona di fede quella è e quella deve essere chi è contrario viene tacciato viene criticato e addirittura contestato e messo lì da una parte come se fosse un rimbambito ogni riferimento a Luc Montagnier premio Nobel è assolutamente casuale ma andiamo avanti per chiudere Luparelli invece anche lui vaccinato di Foligno e professore a Durbino per 80 ore all'anno spiega ho aderito per una questione di incongruenza sull'utilizzo del Green Pass uno strumento che non può costringere al vaccino la certificazione attenzione la certificazione non ha nulla per combattere la malattia non ha efficacia contro il virus questo chiaro dunque ormai è palese però ormai siamo divisi in fazioni quindi anche se tutti sappiamo tutto però ormai io sto da una parte e tu stai dall'altra anche perché io mi rendo conto che i marchigiani che ci stanno ascoltando quelli che possono vaccinarsi sono un milione e trecentomila persone quindi un milione già hanno fatto quasi la seconda dose quindi i marchigiani sono quasi tutti sono tutti quasi vaccinati io sto parlando a uno zoccolo duro di trecentomila persone che non l'hanno ancora fatto questo vaccino non si sa se lo vogliono fare eccetera quindi la maggior parte sono tutti vaccinati i marchigiani quindi cosa stiamo parlando se vogliamo essere proprio no però è una questione di libertà Adria Bus invece il problema di Adria Bus il problema dei mezzi di trasporto ecco la buona notizia è che ci saranno quattro mezzi in più e poi oltre 20 steward cioè quelle persone che controllano che stanno lì per verificare insomma che tutto vada bene e parliamo del trasporto scolastico si susseguono i tavoli tecnici per prepararsi all'avvio in presenza corse da forzare e capienza che cosa resta che cosa si elimina rispetto all'anno scorso tra poco inizia la scuola e quindi il problema del trasporto degli studenti da casa a scuola e viceversa è un momento cruciale un momento importante ma a che perché perché non dimentichiamoci che è lì che potrebbe ancora il virus circolare intanto invece è qui stendiamo un velo pietoso ma San Nicola ecco tutti i divieti e permessi io che vabbè San Nicola ecco tutti i divieti e permessi chi lavora in strutture all'interno ha fasce orari di accesso però attenzione chi vuole andare solo al mare oppure al ristorante niente controllo del Green Pass ma se andiamo a leggere l'articolo sempre di Nicola Masetti ecco qui viene da sorridere ma per non piangere allora sentite come si chiude questo articolo a proposito di libertà personale del Green Pass e quant'altro allora se qualcuno vorrà andare a mangiare in un ristorante all'aperto in Viale Trieste o godersi una delle ultime giornate di mare dove non serve il Green Pass che cosa deve fare? semplice basterà dirlo alle forze dell'ordine che in quel caso eviteranno il controllo capito? uno se non vuole andare a mangiare al ristorante in Viale Trieste oppure vuole andare a fare una passeggiata godersi un pochettino di sole non chiami la moglie per dire guarda sto tardando oppure l'amico devi chiamare le forze dell'ordine questa è la libertà la normalità la normalità ormai sta diventando la normalità io devo andare da una parte devo avvisare le forze dell'ordine che vado a mangiare al ristorante c'è la messa è finito il tempo buona giornata e ci vediamo stasera arrivederci grazie a tutti